Lo sguardo di Gesù sempre ci fa degni, ci dà dignità, è uno sguardo generoso. Un'omelia, quella di questa mattina a Santa Marta, tutta incentrata sullo sguardo di Cristo che si posa sui peccatori, su quanti hanno bisogno di salvezza e d'amore. Per loro Gesù di Nazareth ha una tenerezza particolare tutta sua. È avvenuto con Matteo, esattore delle tasse, amico dei romani contro i suoi fratelli ebrei, pubblico pecatore che vive la sua vita in funzione dell'idolo del denaro. A lui guarda Gesù e con sentimento d'amore lo chiama. Credo che tutti noi nella vita abbiamo sentito questo sguardo. E non una volta, tante volte. Uno sguardo, quello di Cristo, che Jorge Bergoglio ha imparato a conoscere nel corso degli anni. Una storia iniziata esattamente il 21 settembre di 60 anni fa, quando la sua vita è stata trapassata dallo sguardo d'amore di Dio. Al punto che nel suo stemma figura proprio questa frase, tratta da un'omelia di San Beda il Venerabile, il quale, commentando l'episodio evangelico della vocazione di San Matteo, dice, miserando atque eligendo vidit. lo guardò con sentimento d'amore e lo scelse. Tutti noi ci trovaremo davanti a quello sguardo. quel sguardo meraviglioso. E andiamo avanti nella vita, nella certezza che Lui ci guarda. Grazie. Grazie.